e chiamo Alberto Pasetti Bombardella, studio Pasetti Lighting, di parlarci del museo in scena attraverso la luce. Il tempo per piacere. Carpenteria metallica in Veneto, stanno lavorando su un apparecchio, un apparecchio customizzato, vedo che sta facendo un lavoro strano all'interno dell'apparecchio, dico Beppi cosa fai? Beppi mi guarda e dico Levigo, e dico Beppi ma cosa stai facendo dentro all'apparecchio? Questa è una saldatura che non si vede, l'apparecchio una volta finito è sospeso a tre metri di altezza, cosa fai? E mi fa Beppi, perdiamo tempo? No, lo guadagniamo. Non si sa mai, dice, che qualcuno a un certo momento in fase di manutenzione apre l'apparecchio e vedrà che abbiamo curato anche l'interno dell'apparecchio. Qualità. Qualità totale? Qualità. E io la vorrei chiamare messa in scena della qualità, una qualità che normalmente non si vede. Attenzione, partiamo da lontano e poi facciamo un salto, facciamo dei salti piuttosto veloci oggi. Vi conduco, vi porto un po' per mano attraverso un viaggio di, come dire, non solo di sensazioni, di piccole scoperte ma anche di rivelazioni. E di rivelazioni si parte nel momento in cui si assume che Platone porta l'attenzione su un tema fondamentale. La realtà che noi vediamo, la cosiddetta realtà teatrale della vita di ogni giorno, è una realtà che è puramente, se vogliamo fittizia ma condizionata, da una dimensione spazio-temporale, spazio-temporale e culturale del momento storico. Allora siamo noi prigionieri, siamo legati in questa posizione tutta la vita e tutta la vita continuiamo a percepire gli oggetti e le cose della nostra realtà frontale perché riteniamo che questa sia la realtà giusta, vera, corretta. Poi succede qualcosa di straordinario, c'è un uomo che scappa, il prigioniero uno si slega, riesce a capire e a vedere che questa realtà è frutto di una proiezione. Cioè in realtà le realtà sono molteplici e sono delle realtà che dipendono, ancora una volta, da una condizione spazio-temporale e culturale. E questo mi ha fatto pensare che in fondo l'interpretazione e la lettura dell'arte è sempre legata a una condizione soggettiva, di interpretazione, ma di cultura e di tempo. E lo vedremo dopo attraverso le tecnologie. Cultura e tempo. Ma la fisiologia c'entra qualcosa? Sì, sì, perché storicamente la fisiologia aveva già indotto sicuramente gli antichi a concepire degli spazi, il modo di ragionare, il modo di interpretare, ma questa cultura straordinaria dell'immagine. Oggi abbiamo l'iPad, all'epoca avevamo il teatro, la rappresentazione straordinaria dell'uomo che si guarda, che guarda se stesso. La tragedia greca attraverso la quale l'uomo, al di là dello spazio, dell'abilità di costruire l'architettura, il suono, l'acustica, la visuale, adesso vedremo anche dei luoghi straordinari, l'uomo vede se stesso e vedendo se stesso si identifica nella tragedia, guarda se stesso. Io credo che in qualche modo scruti anche il subconscio di se stesso, immenso subconscio, per cui l'artifizio è straordinario, comincia a ingegnarsi, arricchisce la scena, la scena diventa dinamica, mutevole, ed è una scena che in fondo non continua che a rappresentare qualcosa di misterioso che è celato nella mente questo universo. Io oserei dire poco noto, poco noto del cervello, dei suoi meandri straordinari che cominciano oggi ad essere esplorati, ma riportiamoci con l'attenzione all'evocazione di questi luoghi. In fondo questi luoghi sono belli perché sono architettura, ma perché trasmettono emozione? E perché trasmettono emozione? Forse perché per un attimo noi riusciamo, visitandoli, a sederci in un angolino e a dire, qui c'è stata intensità e la si palpa, è palpabile nell'aria e nell'ettere. C'è sensibilità rispetto a una fortissima emozione che deve essere stata sprigionata nel momento in cui le rappresentazioni raccontavano il vissuto dell'uomo, ma raccontavano se stessi, forse la prima vera forma di psicanalisi o di psicoterapia sana. L'auto-identificazione, riconoscere i propri drammi, i propri problemi e i luoghi straordinari, perché non erano casuali questi luoghi, erano luoghi dove la bellezza aveva un ruolo fondamentale. Il culto della bellezza era un luogo della mente e dello spirito. E poi via di seguito l'ingegno, ancora una volta l'ingegno straordinario, l'abbiamo visto con Palladio ma poi lo vediamo con tantissimi altri compositori, artisti, ingegneri e l'ingegno non si ferma perché poi ci sono i trattati nella scenotecnica, dei trattati incredibili, cominciano addirittura di parlare di luci colorate nel Cinquecento. C'è nel Codice Atlantico un disegno splendido di Leonardo da Vinci che fa capire che il concetto di RGB era un concetto innato nell'uomo. Aveva già pensato a colorare delle sostanze, proiettare della luce e quindi dare colore, intensità e direi veramente un significato alla rappresentazione. E non possono certo essere messi da parte i concetti della prospettiva perché la prospettiva, vedete, è una scoperta fondamentale ma un obiettivo molto preciso, lo scopriamo in tanti artisti, è di collocare l'uomo, l'osservatore, ancora una volta in una dimensione spazio-temporale. Si è presenti in una dimensione, ci si posiziona e in quel momento sembra quasi che sia l'artista che ti dica guarda ti voglio far entrare nel mio mondo, nella mia dimensione. Questo lo scopriamo spesso e di nuovo si ricollega con l'emozione. Allora la scena diventa dinamica, la scena continua a articolarsi e nel tempo, nei secoli, questa dinamicità che poi oggi potremmo riconoscere nella cosiddetta dinamicità virtuale delle tecnologie, ma esisteva ben prima, era forse arcaica ma molto molto d'effetto e quasi direi straordinaria. Più semplicemente anche il fatto di usare una lampada che è la prima fiammella utilizzata con una superficie concava, proiettare della luce, entrare nella dimensione della direzionalità, di usare questa luce che era una luce cosiddetta artificiale dell'epoca, proiettandola, dando una dimensione che doveva arricchire la scena e poi siamo arrivati fino all'Ottocento, siamo arrivati alla luce al gas. Ma lo scopo e l'ingegno era sempre lo stesso, la ricerca delle emozioni, la ricerca di catturare l'attenzione di chi è posto al centro del teatro, della platea, o comunque dell'osservatore, perché potesse autorappresentarsi in scena. Oggi le tecnologie sono tra le più disparate, le più straordinarie, però una cosa è certa, della fenomenologia si può parlare a lungo ma questo è un colpo di genio. James Turrell decide a un certo punto che all'interno della scena si può smaterializzare addirittura l'essenza del protagonismo dell'attore, in questo caso di un cantante, per cui crea una specie di doppio sistema sandwich e i cantanti si smaterializzano nella luce, diventa evanescenza, cioè usa la luce per togliere materia e a volte noi usiamo la materia per creare la luce. È abbastanza interessante. Poi c'è un altro tema fondamentale, il tema che in fondo le nostre capacità diagnostiche ci hanno permesso di riconoscere l'esistenza del gesto artistico e di qualcosa che poteva accadere proprio perché sono segni che riusciamo a riscoprire della profondità del pensiero, cioè di qualcosa che è stato fatto, abbozzato e poi è stato anche cancellato oppure è stato ricoperto. Noi con la luce non riusciamo ad attivare attraverso delle mappe neurali questo tipo di consapevolezza, la diagnostica ci aiuta, ma con la luce potremmo creare delle suggestioni. E poi vorrei parlarvi molto brevemente di quella che è la storia, ma non perché io possa avere in qualche modo il ruolo di raccontare una storia, ma della luce, della tecnologia, ma per dirvi la verità, partiamo dal punto di vista cosiddetto del mito della caverna, è che per ogni secolo, per ogni decade c'è stato un principio in cui si diceva questi sono i colori veri, questi sono i colori perché abbiamo questa tecnologia e quindi ci siamo abituati a credere che all'epoca l'incandescenza fosse la giusta soluzione, poi sono arrivate le lampade a scarica e poi dalla lampada a scarica, e siamo arrivati oggi a dei led, tecnologia straordinaria, ma però il concetto è che sono tutte forme di interpretazioni e sono delle realtà e delle verità totalmente relative, interpretazioni del tempo, dello spazio, tempo, cultura. Bene, una cosa ancora più straordinaria, scoprono che ci sono pigmenti fosforescenti all'interno dei dipinti di Caravaggio. Bene, cosa è successo? Probabilmente Caravaggio aveva già iniziato ad utilizzare il concetto della camera oscura, ma questo concetto della camera oscura, che è straordinario, non è poi alla fine semplicemente una sorta di eco del sistema fisiologico? Cioè la camera oscura ripropone un'immagine che è presa dall'esterno, che è riproposta in un interno perché l'uomo tenta di interpretare, di ricostruire. Ma non è quello che fa il cervello ogni giorno in continuazione? Filtra attraverso un cristallino, porta l'immagine su un livello retinico, e poi straordinaria, incognita. Che cosa accade nell'elaborazione di questa immagine? Non lo sappiamo, sappiamo che è straordinaria, ma sappiamo peraltro che esistono aree di specializzazione nella corteccia visiva che collega queste aree di specializzazione dove movimento, colore, segno orizzontale, segno verticale, gli elementi addirittura di riconoscimento dei volti sono presenti in aree di specializzazione. Il cervello, macchina straordinaria, lavora per compartimenti, li mette in contatto, in rapporto, sinergie, sinapsi, e si va avanti. Questo è Samir Zecchi, straordinario studioso, che si occupa poi di verificare le attività, e il monitoraggio delle attività a fronte dell'arte. Potremmo dire, in sostanza, che ci sono vari fattori, quelli luminotecnici che rientrano nell'esperienza percettiva, ma attenzione, memoria, memoria storica, il nostro hard disk, la nostra memoria storica, delle immagini vissute fin da bambini, lo stato d'animo nel momento in cui si contempla un'opera, un luogo, un museo, e l'esperienza percettiva, personale, quella dell'aborigeno è diversa di quella del finlandese. Cioè ci sono situazioni agli estremi del nostro globo che generano, evidentemente, una storia, un'esperienza diversa. Questo è un altro esempio di come due opere diverse, distinte, stimolino aree del cervello diverse. Stiamo parlando di aree neurali che sono stimolate diversamente. Accelero, vado avanti, aree che io ho suddiviso in percezione cultura, innovazione tecnologica, conservazione, può darsi che il digitale ci possa dare una mano. A questo punto vi faccio vedere un filmato. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proprio perché la luce può suggerire effettivamente e stimolare questo straordinario potenziale che è in noi. Vi ringrazio. Credo che quando si parla di illuminazione per l'arte o illuminazione che deve determinare questo, anche chi va a illuminare deve avere questa capacità di essere un neuroscienziato inconsapevole. Questo sì, lo spero tanto perché è un terreno molto fertile. Qualcuno l'altro giorno ha anche sottolineato le tecnologie sono un rischio, effettivamente anche oggi è stato detto c'è un rischio insito nell'uso di una determinata tecnologia. La neuroscienza ci riporta su un piano molto più sano e più semplice che è quello di comprendere noi stessi per ragionare su quello che siamo in grado di percepire senza necessariamente fare grandi macchinazioni, ma semplicemente ragionando sui grandi potenziali che abbiamo. E io vorrei anche concludere il mio intervento con una piccola osservazione, un piccolo dispiacere, una piccola nota di dispiacere. Sono un po' dispiaciuto che all'interno di questo straordinario, quest'occasione di questo convegno, in fondo per una parte dell'arte, dei beni culturali, artistici, che è così importante per il nostro paese, in fondo voi che siete presenti siete preziosissimi, ma questa sala doveva essere riempita il tre volte, il triplo, è il nostro potenziale straordinario. Questo paese ha delle potenzialità incredibili e vedere che in fondo l'interesse, soprattutto probabilmente anche locale, sia così limitato, mi piange un po' al cuore. Mi dispiace. Grazie. Una domanda da voi? Se qualcuno vuole fare una domanda c'è ancora un minuto.